Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Doom Witch Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti! Eccoci qua e benvenuti al nuovo episodio del Doom Witch Buyers Club, podcast di giochi ed avventure che ogni settimana porta a casa vostra al meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Io sono Jack e come sempre, ormai di consueto, sono in compagnia remota di Banda, di Mac, e di Ale. E ovviamente, signore e signori, parlando di Ale non potevamo non sottolineare il grandissimo successo riscosso dall'intervento di Ale di settimana scorsa, quello fatto proprio Into the Wild, alla Nudi e Crudi. Lui in mezzo a brendola con animali selvaggi, adolescenti selvatici, autoctoni, motorini, vecchiette moleste. Ale, vogliamo dire... Ormai Ale hai fissato il meta, ormai hai fissato il meta. Esatto, sì sì. Infatti le cicali diventano occultiste ad onore, ma quello è già deciso. E poi sto già programmando di fare la prossima puntata direttamente nel palù, in mezzo ai canneti, dove ci sono le buvole di zanzare, così mi sentirete bestemmiare per 35 minuti. Dopo The Detective, true di BG. True brendola, e devo dire, brendola si è rivelato un backdrop veramente eccezionale per questo episodio, abbiamo ricevuto un sacco di complimenti e ci fa piacere che dopo 150 e rotti episodi che vi raccontiamo, giochi da tavola, eccetera, la cosa top per voi sono le cicali di brendola. È una cosa che ci riempie di orgoglio e che ci fa capire che lavoriamo bene tutte le settimane, insomma. Cioè questo è... Diciamo che quando Ale dice no signora non sono pazzo, effettivamente abbiamo raggiunto veramente... Vetta, vetta. L'apice, l'apice. Di 152 episodi di DBC. Bene, parlando ad argomenti un attimo più attinenti al gioco, facciamo un piccolo annuncio che ormai è praticamente ufficiale. Saremo ospiti del Lega Nerd Pop Culture Festival, un evento rigorosamente live, credo trasmesso ovviamente da tutto il grande network di Lega Nerd e parleremo di giochi da tavolo. Saremo con voi tra il 13 e il 19 luglio, quindi state con noi, vi comunicheremo attraverso social e quant'altro la data esatta del nostro intervento, potrete ascoltarlo in diretta oppure in differita su tutti i nostri canali social e magari poi potremo magari anche pubblicarlo sul nostro sito, vedremo, di sicuro troverete tutto quanto su Lega Nerd, quindi state connessi perché è un evento abbastanza simpatico, piuttosto più che altro ragazzi in mancanza di eventi fisici, convention, fiere, quant'altro, ci dobbiamo aggrappare a quello che c'è. Tra l'altro c'è anche il contestualmente al giallo della partecipazione del DBC a un eventuale Modena fiere dall'11 al 13 settembre. Io spero che si faccia, non so bene come riusciranno a farlo. Noi saremo un po'... Nessuno, secondo me non lo sanno neanche loro, Jack. Diciamo che si vivrà la giornata, capiremo se e come e quando soltanto nell'ultimo momento. Lo scopriremo solo vivendo, amici. Ci sono, anche perché ci sono due tipi di incognite, l'organizzazione di Modena fiere e l'organizzazione DBC che in quel periodo sarà veramente sottoposta a grande stress. Stress test, Jack. Per vari motivi, per vari motivi. E quindi anche qui non possiamo fare altro che invitarvi a sentire le trasmissioni successive per update su questo argomento. Invece quello per cui non dovete assolutamente avere paura, quello che è sempre ci accompagna ed è sempre un pilastro di questa trasmissione, è ovviamente il momento Zuffolo. 3, 2, 1... ZUFFOLO! Il sito magicmerchant.it è sponsor del The Witch Byers Club. E anche questa settimana vi portiamo un bello sconto su un'intera categoria di giochi come ormai è da consuetudine da quando siamo in, tra virgolette, modalità Covid. e vista riconosciuta la grande difficoltà del paese, il magnanimo e munifico Magic Merchant ha deciso di, diciamo, fare un passo verso il pubblico e di dare la possibilità a tutti noi del popolo, tutti noi popolani, di abbeverarsi alla fonte di Magic Merchant e di avere lo sconto su un'intera categoria. La categoria di questa settimana, ve lo dico subito senza tanti giri di parole, è collaborativi. Ora, il nostro pane, il nostro pane. Nell'infinita magnanimità, generosità del Dottor Merchant è finita questa categoria perché a luglio, proprio in queste settimane, ci sarà un'uscita molto, molto, molto speciale di cui vi abbiamo già accennato e che fa parte di questa categoria. non diciamo il nome del gioco. Se volete ci scrivete, noi ve lo diciamo. In realtà lo sa solo Jack, quindi... No, lo sapete benissimo anche voi. Vi dico... Eh sì, lo sapete benissimo anche voi. È stato un gioco di cui abbiamo trattato in qualche classifica di fine anno. E uscirà finalmente... Ah, l'ho capito, ho capito. Esatto. Ed è un gioco che... Ci sono delle isole. Esce in italiano, è un gioco che aveva una grossissima barriera di testo, questa barriera è stata abbattuta da Genos Games, vedremo quello che succederà. Nel frattempo fatevi un giro su collaborativi, come si fa? Andate su magicmerchant.it, dalla voce giochi da tavolo selezionate la freccina in basso che vi farà apparire un sontuoso menu a tendina e voi da lì selezionate collaborativi. Tutto quello che trovate lì dentro è passibile di DBC15, ovviamente... Sontuoso come sontuoso Piero? Proprio così, banda. E chi per intendere intenda. E tutti gli altri in camper. E tra l'altro, ragazzi, una cosa che Piero Lepore non può garantirvi è la spedizione gratuita dai 25 euro in su. Non solo perché Piero Lepore è un vero troll dentro, ma anche perché non ha un negozio online. Soprattutto per quello che... E con questo argomento un po' come dire surreale, io direi che... Ah sì, un po' di uscite varie che ho notato in questi giorni e sarò super veloce e divagherò ovviamente tantissimo, quindi lo zuffalo si chiuderà tra dieci minuti. Allora, una delle prime cose che volevo dirvi, ragazzi, me lo sono segnato, è l'uscita di un gioco che servirà ad animare le vostre serate estive con gli amici. Le vacanze magari così, organizzate all'ultimo momento, eccetera. con il giochetto da... Il giochetto, il party game da coltelli, da fratelli coltelli nella borsetta sarà... Dovrà essere naturalmente Skull della Smo de Italia, un gioco fatto per animare serate sbevazzone in cui bleffare, divertirsi un casino e un grande classico appunto del bleffing game. Grazie a Smo de, edizione italiana, penso la prima ever. Posso dire una roba, Jack, però? Occhio, perché Skull non è il classico giochetto da party game per amici. Eh già, eh già. È il vero party game di bleff e deduzione da marinai, cioè da gente col pelo sullo stomaco e la faccia di merda. Assolutamente, non volevo dare l'idea che fosse un gioco per famigliole felici, no, questo è un gioco proprio per amici che si vogliono accoltellare tranquillamente nell'ambito del gioco da tavola e di bleff. Ovviamente ci sono altri giochi della categoria come ad esempio Coop, però in Skull c'è proprio un meccanismo veramente basic ma geniale che vi permetterà di fare tutto quanto enunciato dal nostro buon banda. Tra l'altro ragazzi, credo che Skull sia il gioco che in assoluto ha il maggior numero di edizioni e nomi. È conosciuto in tutto il mondo con 800 nomi diversi. Anche perché ragazzi, ovviamente Skull è un gioco che sostanzialmente non ha componentistica, potreste giocarlo con dei sottobicchieri, più o meno. Quindi in realtà, però io vi consiglio di dare un'occhiata alla scatola portata, che è quella classica, quella dell'ultimissima edizione che è veramente veramente ben fatta. Con la grafica calavera. Assolutamente, Mac, la grafica tipo Dia della Muerte messicano, tutto coloratissimo, è un gioco molto molto anche bello da tirare fuori e che incuriosisce i nuovi giocatori. Altra cosa con cui il retiro ai nuovi giocatori ovviamente è l'uscita del nuovo Pandemic, quello piccolino, Hot Zone, ambientato in Nord America, un gioco che costa meno di 20 euro. L'ultima volta che ne avevamo parlato non avevo specificato il prezzo, ma stiamo parlando di una Pandemic Experience compressa, sia nel tempo, non credo nelle emozioni, ma nel tempo e nel prezzo, ed è ovviamente questo nuovo Pandemic. E poi ovviamente parlando di, e qua chiudiamo il momento Zuffolo ragazzi, perché ovviamente adesso vado a parlare di cose che sono un po' più non relazionate con il sito magicmerchant.it. Quindi ragazzi chiudiamo sto Zuffolo, ricordatevi il DBC 15 questa settimana sulla categoria Cooperativi Collaborativi. Cooperativi. 3, 2, 1, Zuffolo! Bene ragazzi, allora prima andiamo proprio alla ciccia della puntata, al vero contenuto che questa settimana è, come avete visto dalla splendida copertina di Mac, ovviamente dedicato allo speciale World of Warcraft realizzato da banda e ce ne parlerà tra una decina di minuti. Prima però volevo fare un paio di annotazioni su un'uscita che personalmente mi ha molto colpito. Siccome stiamo parlando di World of Warcraft e stiamo parlando di un gioco che è un vestito nuovo, ok, dobbiamo per forza parlare a proposito di vestiti nuovi. È uno spin-off? Un porting, Jack? No, sto parlando di giochi, giochi, giochi ormai classici, ormai giochi che hanno una certa tradizione, ma giochi che sono vestiti di nuovo con IP super famosi e naturalmente ragazzi... è come sentire sgarbi parlare di sobrietà. Eh, beh, è diverso Ale, perché questi... Ale, tecnicamente non sto prendendo un grande capitolone time, sto prendendo un grande capitolone reskin, che è diverso. Reskin. Allora, andando a vedere un po' di giochi che sono stati, come dire, reschinnati, rivitalizzati con grafiche nuove e dedicate ai più famosi, non potevo ovviamente non citare in questa puntata Unlock Star Wars, che sono le famosissime escape room di Asmodee in versione Star Wars, uscita fine agosto, primi di settembre 2020, per tutti gli appassionati di Escape Room, per tutti gli appassionati di Star Wars, credo, must have, anche perché vi dico solo che la prima avventura dovrebbe essere voi che scappate da uno Star Destroyer. Non è per fare pubblicità gratuita, però, come sapete, io sono un grande appassionato di Unlock, ne ho già parlato, li ho finiti tutti durante queste prime settimane in cui si è potuto ritrovarsi con gli amici, è stato veramente un'esperienza, e secondo me la prova dei Sette Dragoni che è contenuta nell'ultimo Unlock è la miglior escape room creata in Unlock, e ci tenevo appunto a vedere se questa esperienza sarà superata dal vestitino Star Wars. Parlando di vestitini, andiamo invece a parlare del gioco che è... Monopoly di Harry Potter? No, beh, dovremmo fare otto puntate di vestiti di Monopoly, caro Ale, come tu ben sai, però siccome si parlava di vestitini, volevo, come dire, rivelare la vera ragione per cui si parla di vestitini, che è l'uscita di, ovviamente, Small World vestito da World of Warcraft, che è la ragione per cui ci siamo detti, vabbè, è il momento di far uscire lo speciale di Banda che era l'incanna da un po', vero ragazzi? Chiedo anche a Banda se è stata l'idea scatenata. È il momento, sì, sì, beh, dovrebbe, alla fine il gioco uscirà quest'estate e semplicemente ci sembrava giusto tributare a questo incrocio tra un classico del gioco da tavolo del 2009 con il videogame più famoso, sostanzialmente il videogame di massa più famoso di tutti i tempi, uno speciale come tipico del DBC, insomma. Esatto, come sapete è un periodo, stiamo lavorando a un progetto molto molto speciale che vedrete sicuramente prima della pausa estiva e su questo però top secret e lavorando, questo progetto ci sta prendendo molto tempo e ovviamente abbiamo deciso, lo avete già capito, anche di fare uno speciale per avere appunto il tempo di costruire un contenuto di altissima qualità che vi aspetta tra poche settimane. Ora ragazzi, andiamo a sviscerare un paio di fatti su Days of Wonder che è la casa editrice originale di Small World e la Blizzard che è ovviamente lo studio che ha pubblicato e pubblica tuttora World of Warcraft. Sentite questa ragazzi, allora abbiamo, ci sono pochissimi fatti relativi a questo gioco qua, se non che il gameplay è praticamente identico con qualche chicca in più a tema World of Warcraft. Ma sentite qua, la Blizzard, io ho trovato un post di Vespert Ilio su Borgen Geek che sciorinava alcuni fatti che sono trappelati riguardo a questo gioco qua e sono fatti anche abbastanza curiosi come per esempio la Blizzard che nel 2013 andò dalla Days of Wonder a chiedere un adattamento, tema World of Warcraft, di Ticket to Ride. Pensate, la prima idea, Ticket to Ride World of Warcraft. Beh, adesso mi vengo a ridere però effettivamente, cioè... Il Fly Pat, il Fly Pat, il Fly Pat ci sta, sì. Invece la Days of Wonder, il progetto andò in stallo e la Days of Wonder suggerì l'idea di Small World nel 2015, quindi l'inizio di questo progetto è di 5 anni fa. All'inizio della mappa, la Blizzard andò dicendo, ok, la mappa, facciamo la mappa di Small World ma la facciamo come Azeroth, dove è che è il mondo dove è ambientato World of Warcraft. Tuttavia non si riuscì a fare e la Blizzard, scusate, la Days of Wonder iniziò a ridisegnare le mappe da nuovo e infatti le mappe che troverete nel gioco non sono quelle di Azeroth perché non si poteva fare. Le razze sono praticamente tutte quelle anche più moderne, anche quelle che sono uscite dopo che abbiamo smesso noi di giocare, ragazzi. Infatti ci sono i Worgen, gli Eterials, non so cosa siano, gli Andei, gli Tauri, gli Naga, addirittura ci sono i Koboldi, i Panda ovviamente, gli Gnomi, eccetera, eccetera. E tutti i più famosi, le più famose razze. Vabbè ragazzi, del resto in Small World ci sono 14 razze, per cui bisognava per forza che pompassero dentro tutto quello che avevano. Secondo me, quando la prima volta la Blizzard si rivolse all'Arcane Wonders per un gioco a tema reschinnato Worldcraft, non avevano nemmeno il numero di razze sufficienti per poter fare Small World. Ce l'hanno adesso? Esatto. In realtà ci c'erano, nel senso che il fatto è che adesso, e soprattutto con l'espansione che arriverà, che è Shadowlands, i giocatori hanno la possibilità di sbloccare nuove razze giocabili attraverso una serie di quest. Tu fai una chain quest e sblocchi, ad esempio, i Troll del Sangue. E da quel momento puoi crearti un personaggio Troll del Sangue. hanno semplicemente attinto a tutta una serie di razze che erano già esistenti ancora in Classic, o in TBC, o in Wrath of the Lich King, e semplicemente erano presenti, che so, perché c'era quel villaggetto di orsi a nord di quella zona, e semplicemente sono diventati personaggi che puoi effettivamente giocare all'interno del... Infatti, diciamo che da quel punto di vista lì la Blizzard sicuramente non aveva problemi di personaggi aggiuntivi da aggiungere oltre alle classi base, insomma, quelli che possono giocare tutti gli utenti di World of Warcraft, appunto con gli appartenenti a quelli che è proprio il reame di Azeroth e poi tutti i suoi derivati, ecco. Quindi sicuramente potevano pescare a piene mani dalle tante idee che hanno avuto questi anni. Ma tra l'altro, ragazzi, pensate ai 20 milioni di giocatori al mondo di World of Warcraft che sanno che sta per uscire il gioco da tavolo. Eh beh, figurati. Cioè, praticamente fa un pubblico a sé, fa un mercato a sé. È quello che credo sperano quelli della Days of Wonder e quelli della Blizzard. Ecco, se magari avessero fatto come, aspetta, se magari avessero fatto come quelli della Riot della Riot, come si dice, Mac vs. Minion lo fecero uscire sotto costo perché tanto, ma chi se ne frega. Invece qui credo che insomma il prezzo sarà ben più sostenuto, ecco. Io credo, si parla di un prezzo tra i 50 e i 60, quindi diciamo non proprio primo. Sì, comunque sappiate che io ho visto diverse sia illustrazioni sia pezzi di quello che sarà dentro la scatola. Grandissima qualità, ma come sapete la Days of Wonder ha fatto della qualità dei materiali veramente un punto d'onore. Sì, tra l'altro leggevo, non so dove, che la Blizzard è stata ultra strict e veramente una spremitura di maroni per l'Arcane Wonder per quanto riguarda tutte le grafiche. Si parla? Pensati che si parla della distanza tra gli occhi di alcune razze, ha addirittura il colore del piumaggio di alcune creature doveva essere esattamente di quel tipo di colore lì. Cioè hanno voluto fare una cosa ovviamente graficamente perfetta. Ragazzi, ricordiamo che anche nel videogioco, diciamo passato il primo botto grosso quando incominciarono a popolare il mondo di Azeroth, ricordo di aver letto al tempo un'intervista al Lead Character Designer, scusate, Environmental Designer di Blizzard, quindi vi parlo comunque di almeno una decina di anni fa, dove descriveva il tipo di studi che dovevano fare e soprattutto come si dice, le forche caudine che dovevano attraversare per avere l'accettazione, l'ok definitivo da parte delle grandi menti. Sì, molto ancora dentro il Rage File Cashmere, che è l'instance da livello di 12 di org rimarrate sono troviate. No, no, no. Cioè questa qua è roba da cliente cagacazzi. No, ti assicuro, ti assicuro in mezzale che alcune cose di Strangle Tornvale soprattutto, perché al tempo c'era stato il revamp di Strangle Tornvale, ed erano molto interessanti perché lui parlava proprio di cose specifiche, dove erano andate a prenderle, cioè da dove avevano tratto ispirazione ed era una bella cosa sapere. Scusa me che magari mi sbaglio, però sicuramente data la vastità di Azeroth e tutte le regioni che ci sono, ci sono diversi team di grafici che si occupano e onestamente, per quanto io abbia amato alla follia World of Warcraft, è un fatto che alcune zone siano incredibili, altre sono un po' più, un po' mediocre insomma, ecco. Comunque, amici del DBC, non dovete preoccuparvi perché qui la grafica ovviamente è in pieno 2D, è una specie di mappa che vedete dall'alto e, come sanno i giocatori di Small World, tra l'altro qui dicono che in realtà le mappe ricordino Azeroth e sono giocabili con le razze del gioco precedente. Tuttavia, non è saggio mischiare le razze vecchie con quelle di World of Warcraft perché ci sono, è stato detto, adesso io non posso entrare più nel dettaglio, però ci sono dei poteri che diventano irrilevanti, quindi non si possono mescolare componenti, però potete giocare. Chi lascia la razza vecchia per quella nuova, Jack, però puoi utilizzare le mappe del nuovo su quello vecchio. Bravissimo, e la mappa, ovviamente la mappa è modulare a seconda del numero di giocatori. Comunque ragazzi, vi faccio una domanda al volo. Adesso, Small World è effettivamente un bel gioco, è piacevole, ha un target un po' particolare, però secondo me ha sempre funzionato molto bene e noi l'abbiamo giocato anche parecchio. Tanto. Però, con il bacino di roba che World of Warcraft ti può offrire, a livello, che so, la Gurubasha Arena. Posso arrivarci dopo, Ale, perché vorrei finire di sciorinare questi succosi fatti, uno dei quali è che voi sapete che ci sono le Lost Tribe in Small World e qui sono i Murloc. Praticamente i Murloc sono... Dai, stupendo! Esatto. Non ci sono i leader... Questa volta sapevo fare il verso, adesso non sono più capace. Non ci sono i leader... No, come Ale! Non ci sono i leader che sono stati introdotti da un'espansione di Small World. Esce a fine agosto, primo settembre. Non ci sono ancora nessun tipo di annuncio per espansioni o versioni online, che in realtà secondo me non ci saranno. Probabilmente aspetteranno di vedere come vende e poi... Beh, l'app, ragazzi, è strepitosa. L'app è bellissima di Small World. Quella di Small World originale, ovviamente. Probabilmente faranno una patch a pagamento, se devo mettere due soldi. Un bel DLC. E infine è stata presentata anche alla Blizzard una versione un po' scritto joke, una versione farlocca per divertirsi, con i Tauren, che erano proprio delle vere e proprie mucche da latte e i Worgen, che erano delle specie di, come si dice, cuccioli. Ah sì, dei pappi, che erano i cibi Worgen. Esatto. E per chiudere con l'ultimo fatto, tutto quello che succede dentro il gioco Small World, World of Warcraft... Rimane dentro Small World. Esatto. Non è canone del mondo, dell'universo World of Warcraft. Quindi non ritroverete ripercussioni del gioco dentro il mondo del Massive Online. Per fortuna, mi viene da dire. Giustamente. Per fortuna. Beh, figurati. Allora, Ale... Mi sembrano gli annunci tipo di microonde, non mettete il gatto dentro. Bravissimo, bravissimo. Allora, per quanto invece riguarda i giochi di World of Warcraft, io ne ho trovati sostanzialmente due. Sono iperfamosi, anche perché uno è, lo trovate in tutti i garage o le vendite online più disparate, perché l'hanno venduto tutti quelli che l'hanno comprato nel 2005. E sto parlando del gioco da tavolo di World of Warcraft. Mai arrivato in italiano. Un prodotto... Concienza? Non credo, banda. Un prodotto Fantasy Flight, che al tempo fece scalpore, un big box gigantesco. Si parla di, ovviamente, fazioni, orde alleanza, che devono essere i primi a far giù un Overlord, che poteva essere, fermi tutti, occhio col momento nostalgia, Kel'Thuzad, Nefarian o Kazak. Questi erano i... World of Encounter, Kazak lo ritroverete nel mio speciale, ragazzi. Perfetto, sono molto contento che abbiamo creato un legame con lo speciale di banda. E non a caso. In caso, quando si falliva l'abbattimento di uno dei boss, si doveva combattere alla morte tra le due fazioni. Si parla di un gioco da... Classic tutto il pomeriggio, quattro ore. Si parla di downtime, che arrivavano a 30 minuti. Quindi si sta parlando di giochi... Però... Progettati e sviluppati chiaramente in un'altra epoca. Chiaramente in un'altra epoca. È stata un'enorme occasione persa a tutti i livelli, purtroppo. E questo ci fa capire quanto avanti è andato il game design di oggi. Io penso che se questo progetto venisse in mano a game designer con la testa di adesso, avrebbe tutto un altro tipo di sviluppo. Ragazzi, banalmente, pensate a un Blood Rage skinnato wolf. E ho detto tutto. Cioè, nel senso... Ma anche tipo... Questa cosa che dicevo già, che effettivamente è interessante. Perché poi, in realtà, quello che succede spesso con gli IP molto, molto importanti, tipo, vedi, World of Warcraft, così... Fanno un exploit, un tentativo, con una casa comunque rinomata, come può essere la Fantasy Flight, eccetera, eccetera. E per qualche motivo il gioco va male. E dopo loro, come dire, si chiudono a riccio. E magari passano veramente decenni prima che ridiano l'IP in mano a qualcuno per sviluppare un altro gioco. E questo è un peccato, perché questo poteva essere vero magari tanti anni fa. Adesso, invece, con le potenzialità appunto di game design che ci sono, con i game designer che ci sono adesso, veramente ci sono alcuni titoli che... alcuni IP, perdon, che potrebbero brillare e regalarci di quelli micidiali, veramente? Banalmente, quello che stavo dicendo prima, essenzialmente. Allora, vi faccio tre esempi, tre esempi smaccati. Il primo sono le famose arene PvP che furono introdotte durante The Burning Crusade. Quindi la possibilità per due, tre o cinque personaggi di combattere una scuola contro l'altra. Non è fuori Super Fantasy Brawl. Ah, Super Fantasy Brawl. Esatto, esattamente. È fatta. Esatto. Cioè, Super Fantasy Brawl, skinnato World of Warcraft. Pensate alla Gurubash Arena, anche quella può essere una skirmish. Pensate a un dungeon crawler a tema BWL, a tema Icecrown, a tema, che so, Mekanar. Black Temple. Una Mekanar Fastale. Esatto, Mekanar Fastale tra di notte. Oppure, nell'espansione Legion, se non ricordo male, spero di non sbagliarmi, fu introdotta la garrison, la guarnigione. Cioè, la possibilità che avevi, al posto di avere il tuo personaggio che aveva le skill, le professioni, tu potevi costruire una garrison che era la tua base, potevi assoldare gente facendo quest e mandarla a fare quest in giro per il mondo. Pensavo fosse un maggior domo di Iron Man. Potevi produrre roba, cioè era proprio un'area di gioco creata solo per te, in cui ti muovevi e facevi le tue cose. Pensa a un gestionale basato sulla garrison, con le quest, con le chain, con tutto il discorso di alleanze da creare. Cioè, poteva uscire veramente un gioco interessante, perché alla fine, come funzionava, era già un board game. Però non ci hanno mai creduto. Questo è il momento in cui Mac di solito dice e ora compri Otil Vicenza, come per dire e allora, fallo te, fallo te, se sei tanto bravo questo gioco. Io sono mega d'accordo con Ale. È che appunto, basandoci su quella che è un po' la storia di alcuni IP veramente notevoli che sono rimasti nel limbo, banalmente penso a Warhammer Fantasy, a Warhammer 2, che è rimasto per decenni. Il capitolo GV che non dà le licenze quando la gente gli offre i miliardi meriterebbe uno speciale solo quello. O le dà in modo leggermente insulso. La storia recente è passata. Comunque, ragazzi, la Fantasy Flight ci ha riprovato nel 2008 perché è uscito World of Warcraft The Adventure Game. Anche questo gioco in italiano non l'abbiamo visto neanche col binocolo, almeno non mi pare proprio. E questo era, questo era, in realtà questo era il, praticamente, non si parlava ancora di Reskin, però più o meno era Reskin di Runebound, che era la versione figa, cioè la versione più interessante, fatta un po' meglio, di Talisman. quindi era, vado in giro con il mio personaggio livello. Che era la versione più bella del gioco dell'Oca, insomma. La versione, la versione, prendo il mio personaggio, lancio il dado, vedo dove mi posso muovere nella mappa, interagisco con i vari spazi e vedo, affronto i mostri, livello, e il primo che fa giù il boss vince. E quando muoio male, table flip. E questo fa capire quanto nel 2008 fosse diverso il mondo di intendere di buttare fuori giochi da tavolo con IP famosi, ed è uno dei motivi per cui io non so perché, per cui secondo me, l'IP, il gioco, il tie-in, è colpevole fino a prova contraria. Sì, ma Jack, la FFG, scusami, la FFG, una volta che hai preso i diritti per fare quella buellata atomica che era il vecchio gioco di World of Warcraft, ma fai Descent basandoti su World of Warcraft, santo Dio. E invece, ti becchi The Adventure Game, un gioco che se alcuni appassionati volessero riscoprire, magari gente a cui non dispiace il talisman attuale, sappiate che esiste la possibilità di muovervi nel mondo di Azeroth, livellare il vostro personaggio, fare un sacco di avventure, tutte un po' più o meno pazze a caso, con questo gioco. Perdere la vostra Thunderfury per i nomadi nel deserto. Si consigliano i guanti di plastica comunque, per maneggiare. Viene venduto a prezzo più che onesto, è un modo un po' vintage di giocare a World of Warcraft. Noi auspichiamo e pensiamo che ovviamente lo Small World, rilanciato dieci anni dopo con ovviamente la grafica e il tema World of Warcraft, possa invece diventare un gioco che unisce l'esigenza di scoprire un piccolo classico e anche originale classico come Small World, assieme a tutta una serie di nuovi giocatori, che sono attirati ovviamente dalla grafica e dal mondo di World of Warcraft. Sapete quella è la roba bella? Che finora abbiamo parlato a mezz'ora e non abbiamo detto che tipo di gioco è Small World. Cioè noi abbiamo... Un capino magari sarà più simpatico. Cioè noi diamo per scontato che tutti lo conoscano e giustamente anche perché... Non abbiamo... Se non lo conoscete Small World che è fuori dal 2009... Se per questo abbiamo dato... Non so cosa ci facciate qui. Se per questo abbiamo dato per scontato anche che tutti sappiano che cos'è World of Warcraft. Cosa che secondo me... Ma questo poi glielo spiega Banda nello speciale. Tra l'altro... È difficile che qualcuno fra i 25 e i 40 non sappia cosa è Small World of Warcraft. Comunque ne abbiamo già parlato settimana scorsa, sempre nell'introduzione in cui abbiamo raccontato... Per citare How I Met Your Mother, solo gli impiegati della Blizzard non conoscono World of Warcraft. Perché non l'hanno visto, non l'hanno giocato, l'hanno vissuto. Esatto. Comunque ragazzi, se volete una descrizione più dettagliata di Small World settimana scorsa, di fatto è un gioco di maggioranze in cui prendete delle razze e le combinate con dei poteri che, anche lì ho letto, non potevano essere rappresentative delle classi di World of Warcraft. Quindi non potevate fare i paladini gnomi contro, non so, i warrior tauren, perché non funzionava il gioco, quindi hanno dovuto mettere dei poteri assieme alle razze, come nel gioco originale. Ma i warrior tauren c'erano? Sì, però non potevano trasporlo nel gioco, Ale. Non aveva senso trasporlo in Small World, questo intenderà. Il gioco viene composto dalla razza e da un potere che non è rappresentativo dei poteri delle classi del videogame. Gorsetti Barzotti, certo. Mettici Gorsetti Barzotti. Ma tra l'altro secondo me è stata una scelta di design anche abbastanza ragionevole, voglio dire. Ragazzi, lo dico per il pubblico, Gorsetti Barzotti era il nome di una famosa gilda del vecchio World of Warcraft vanilla, cioè la prima iniezione di World of Warcraft. era una gilda italiana che si chiamava così, era molto famosa per questo motivo. Chiusa la parentesi, se no sembra un depravato. Insomma, nessuno aveva dubbi in merito comunque. Il fatto della scelta di questo tipo secondo me è saggio, perché si sarebbero sicuramente infilati in un cul de sac da un punto di vista di game design abbastanza appeso. Invece, secondo me, i ricordi più belli che ho io delle nostre partite di Small World era quando uscivano le combinazioni pazze che apparentemente non potevano funzionare e poi magari ti spaccavano la partita perché erano mega forti, oppure quella persona riusciva a farle refare in maniera particolarmente vantaggiosa. E spero che anche qua, anche in questo tie-in, si possa assaporare un po' lo stesso gusto, perché io lo ricordo come forse la cosa più bella di Small World, riuscire a far funzionare le cose assurde. Ecco, io non ho info particolari su questi poteri, però insomma, più o meno, ragazzi, quello che dovete fare è, tra virgolette, draftare una delle razze e cercare di espandervi il più possibile e poi mandare, come dire, nel dimenticatoio, mandare in declino queste razze. In declino, che secondo me è la roba più bella in assoluto. Esatto, la vera idea, la vera chicca, la vera chicca era mandare in declino e passare a un'altra razza, sfruttando l'onda lunga di quello che avevate fatto in maniera precedentemente. Controllo territorio, maggioranza, ragazzi, un piccolo classico, costava parecchio anche al tempo, ma perché Days of Wonder faceva le cose già per il 2009 a un livello veramente alto. Esatto, a livello veramente alto. Il tabellone del primo Small World tuttora aveva dei cartoni che erano incredibili da giocare, era veramente appagante. Erano armi contundenti. Esatto, perfetto. Bene, ragazzi. Le fustelle erano armi contundenti. Allora, più o meno ci siamo arrivati, è il momento di far partire lo speciale di banda. Allora, io dico solo che, se non lo sapete, l'abbiamo detto più volte, magari anche l'abbiamo detto su Reddit, l'abbiamo detto quando abbiamo fatto lo speciale Chiedeteci di tutto, come sapete questo gruppo di amici si è formato anche grazie a World of Warcraft ed è stato un periodo in cui un uragano di emozioni, un turbinio di serate finite tardissimo, eccetera. Io ricordo quel periodo con grande affetto, è stato un periodo formativo molto interessante, ci ha dato sicuramente anche un certo tipo di sensibilità, un certo tipo di maturità che ci portiamo tuttora con noi. C'è anche tolto tanto, c'è anche tolto tanto. Esatto, volevo sapere un po' se qualcuno vuole dire una frase su quello che è stato quel periodo lì, se no partiamo con banda. Io ho detto la mia e ripeto, non rinnego niente, no regrets, però non so se lo rifarei. Io dico solo per fortuna che noi ci siamo arrivati, che avevamo già finiti le superiori, perché se no io sarei ancora lì a fare la quinta superiore, adesso probabilmente. Ale? Io lo dico forse con, magari è una cosa un po' troppo melenza, però ragazzi se ci pensate senza World of Warcraft io non vi conoscerei. No, è vero, è vero, è vero. Se siamo qua, se il DBC esiste, se abbiamo questa passione per i giochi da tavolo, è anche grazie a World of Warcraft e vi prego fatemi fare soltanto un piccolo ricordo che ho. È il momento dei ricordi, vai tranquillo, è il momento dei ricordi. A Marcord, vai. Quando fondammo la Gilda con Nirbak HMech. Limo Wipe. No, fondammo gli Evade, voi non c'eravate ancora ragazzi. Eravamo a Orgrimmar, abbiamo fatto la firma, le famose dieci firme per creare la Gilda e diventammo gli Evade. e siccome HMech col suo personaggio era proprio in centro del Grimmar e gli apparve la scritta Evade sopra la testa, altri due Hunter, o comunque un altro Hunter, gli scrisse chiedendo di oh ma che figo, bello il nome della Gilda, posso unirmi? E lui, che era l'unico Hunter dei dieci, fa no no, Hunter siamo pieni, grazie, ciao. E sta roba qua, ancora me la ricordo, perché ci abbiamo riso sopra per mesi. Per non condividere gli oggetti con perfetti sconosciuti. Poi ragazzi le serate a Carazan, con Jack che faceva il tank, cioè sono stati momenti particolari a cui effettivamente io devo la presenza all'interno di questo podcast, per cui insomma ben venga. Un piezze e core proprio. Molto bene, siccome è il momento dei ricordi, Banda, tu hai messo tutto nello speciale o vuoi dire qualcosa extra? Io ragazzi ho tutto nello speciale perché se no diventerai troppo sentimentale. Perfetto, bravo, bravo Banda. Ragazzi, voi dite, sì ma World of Warcraft è un videogame, voi siete un podcast di giochi da tavolo. In realtà la vera ragione è che il periodo World of Warcraft di ormai 14 anni fa ci prese, ci musse tutto quello che avevamo e chiuso... Scusatemi, scusatemi, Alexa, stop. Esatto, grazie Alec, muoio, muoio. Quando non ci sollecicale c'è Alexa comunque. No, mi hai fatto un promemoria delle dieci, vabbè, ok. Riformulo in maniera molto sintetica, sostanzialmente distrutti dal discorso videogame e volendosi lasciare alle spalle quel discorso lì, il progetto di dedicarci ai giochi da tavolo partì in pompa magna e da lì non fu più videogame, fu praticamente, salvo qualche isolato, isolata giornata devastante a World of Warcraft, ci dedicammo completamente ai board game che allora erano soltanto diciamo un side project e diventarono proprio la nostra attività principale e iniziamo a coltivare questa passione insieme, passione che tutti quanti avevamo già da ragazzini, ma che iniziò veramente a prendere il suo corso tra il 2007 e il 2008. Quindi ragazzi, questo è un po' anche la ragione per cui facciamo questo speciale, non solo per magari celebrare l'ultima uscita ludica tema World of Warcraft, perché un po' le stelle si sono allineate, avevamo l'uscita di un gioco interessante, lo speciale di Banda pronto e confezionato, bello carico, delle esigenze editoriali particolari di questo periodo e quindi per questo motivo siamo qui a raccontarvi questo speciale. Banda, vuoi fare un ultimo teaser prima di iniziare? Sì, ragazzi, World of Warcraft è stato per noi un hobby totalizzante per molti anni, in modo particolare, beh, per quanto mi riguarda, ci ho giocato parecchio e devo dire la verità, gli devo molto dal punto di vista umano, in quanto ho conosciuto, mi ha permesso di conoscere un sacco di persone, di consolidare i rapporti di amicizia con i membri del podcast e proprio anche a livello di immaginifico mi ha dato là tutta una serie di idee e di cose che hanno trovato dopo corrispondenza anche nel mondo dei giochi da tavolo. Per cui, come fu per lo speciale Magic, sono debitore a questo gioco che, vabbè, non è un gioco da tavolo, ma è un gioco virtuale, insomma un gioco digitale, e non potevo non dedicargli questo speciale perché ha rappresentato una fetta di anni della mia vita ludica molto importante. Bene, con questo ragazzi non mi resta che darvi il saluto e un buon ascolto di questo speciale, un saluto da Jack, uno da Banda, uno da Mac e uno da Ale. Continuate ad ascoltare la puntata, buon ascolto dello speciale di World of Warcraft by Banda e come sempre ci vediamo... Ci vediamo dall'altra parte! Grazie amici e buon ascolto! Alla prossima! Ciao a tutti! Ciao ciao ciao! A lancio, nel novembre 2004, era il videogame più grande e ambizioso mai prodotto nella storia. Forte di oltre 2 milioni di righe di codice, una quantità circa 4 volte superiore di quella alla base dei più importanti titoli dell'epoca. Il suo team di sviluppo e il budget previsto per l'opera furono i maggiori mai messi in campo nella storia di Blizzard Entertainment. I suoi abbonati crebbero a dismisura sino a raggiungere la massa di una grande metropoli, una massa in grado di produrre guadagni pari al pil di una piccola nazione. I dipendenti Blizzard passarono velocemente da poche centinaia a diverse migliaia e la maggioranza di questi si dedicò esclusivamente al servizio clienti. Al lancio la sua interfaccia, le quest e tutti gli elementi di gioco testuali composti da milioni di termini erano disponibili in 6 lingue diverse. Per interagire con i giocatori furono programmati oltre 9.000 diversi mostri ed NPC, tra cui 170 tipi di ogre e altri 100 tipi di murloc. Sino a quando YouTube non iniziò a diffondere contenuti a tema in streaming, i soli server del gioco muovevano in download oltre il 10% totale dei dati dell'intero web. I contributi complessivi di tutti i suoi giocatori invece costituivano circa la metà di tutto il traffico internet del pianeta. Da allora il sole non sarebbe mai più tramontato sull'impero di World of Warcraft. Prima di iniziare il nostro viaggio, è importante spiegare con precisione la differenza tra gli MMO, Massively Multiplayer Online, e gli altri generi di videogame. Intendiamoci, tutti i videogame moderni sono difficili da realizzare, poiché nessuno può realmente sapere a priori se un'idea sarà davvero buona e divertente senza poterla provare in anticipo. E realizzare la sola demo di un'idea nel mondo dei videogame significa spendere una montagna di soldi, tempo ed energie. Immaginate l'impervio K2 dei giochi difficili da realizzare. Ecco, in vetta, sul tetto del mondo, troneggia solitario il genere MMO. Poiché gli MMO consentono a milioni di persone di giocare contemporaneamente nei medesimi spazi virtuali in tempo reale, il loro codice deve essere ottimizzato alla follia per garantire le migliori performance. Ogni server deve, ogni secondo, tenere traccia del movimento, del bersaglio e dell'inventario di milioni di utenti. Ogni volta che qualcuno di loro ruota la visuale dello schermo con il mouse, il server deve inviare all'istante aggiornamenti di immagine e posizione a migliaia di utenti che vedono quel soggetto e viceversa. Il traffico dati generato dagli MMO è fondamentalmente impronosticabile, poiché nessuno può sapere quando migliaia di personaggi decideranno di riunirsi nello stesso posto per un flash mob o per compiere un'epica impresa. Nessun altro genere di gioco ha problemi simili da risolvere. Ogni riga di codice di un MMO, insomma, deve essere lo stato dell'arte della programmazione per spingere le performance generali al limite ed evitare crash di sistema e overload per i processori di un server quanto di un comune PC domestico. Impedire ai giocatori di hackerare il sistema è il secondo grosso scoglio da affrontare. Gli exploit in giochi come World of Warcraft possono devastare l'esperienza a moltissimi utenti. Questo perché appena qualcuno scopre una scorciatoia o un bug, riuscendo magari ad accedere a un luogo normalmente inaccessibile, presto anche tutti gli altri rapprofitteranno dello stesso bug per salire di livello in meno tempo o per guadagnare oro più facilmente. Insomma, l'intera architettura e il dialogo client-server devono essere costruiti ad arte per impedire ai singoli utenti di hackerarli. Considerate poi che, oltre a tutto questo, il gameplay deve essere vario, longevo ma ricorsivo a sufficienza da spingere ogni giorno un giocatore a fare sostanzialmente sempre la stessa cosa, ma in modo sempre diverso. E credetemi, si affrontano una marea di problemi nel creare una lunga serie di incentivi per quello che essenzialmente è un gioco infinito. In prosa, gli MMO sono giochi di ruolo dove i giocatori si misurano tra loro in base alle proprie statistiche e all'equipaggiamento che comprano. Poiché alcuni oggetti sono chiaramente più potenti di altri, bisogna evitare che coloro che sono meglio vestiti peggiorino l'esperienza, in modo volontario o involontario, a tutti gli altri. L'equipaggiamento, insomma, deve consentire anche ai casual gamer di dire la loro, ma il contempo deve garantire ai top player una ricompensa adeguata al loro fanatismo. La difficoltà nel creare armonia tra diverse categorie di giocatori ed equipaggiamento sta nel fatto che in World of Warcraft esistono molte più zone, quest e istanze di tutti gli slot consentiti per armi, armature e oggetti individuali. La formula del successo è trovare un perfetto bilanciamento tra ricompense e sforze ricorsivi per averle, sia per chi si dedica anima e corpo al gioco che per coloro che ne usufruiscono nei ritagli di tempo. Durante i festeggiamenti per il primo decennale di Blizzard sul mercato, nel lontano marzo 2001, diversi team di sviluppo erano all'opera su Warcraft 3 e l'espansione di Diablo 2. Oltre a questi, il team 2 si prodigava invece per un progetto ben più ambizioso e sottovalutato, un MMO. Diversi programmatori del team 2 non presero neppure parte ai festeggiamenti, persi nelle loro 80 ore settimanali di lavoro, spesi a creare dungeon e location 3D con software completamente inadatto ai loro bisogni. Blizzard era allora tra i leader dello sviluppo 2D, ma di 3D non sapeva assolutamente niente e dovete investire in un certo numero di designer e ingegneri specializzati per esplorare la terza dimensione. Per capire se l'esperienza di un utente all'interno di una gigantesca architettura 3D ricca di poligoni, dettagli e texture fosse realmente possibile, venne eretta tra le prime istanze la torre abbandonata più famosa del gioco, Karazhan. Karazhan, in epoche passate, era la dimora di Medivh, l'ultimo guardiano di Tirisfal, ma di lui vi parlerò in seguito. Al momento vi basti sapere che la costruzione del portale oscuro che in origine condusse gli orchi di Draenor su Azeroth, con tutto quello che ne conseguì, fu opera sua. Pensate che il solo file di Karazhan era più grosso di tutto Quake 3 e impiegava oltre 5 minuti per aprirsi o salvarsi. Se in quella titanica magione la vita virtuale fosse stata possibile, tutto si sarebbe potuto fare. Sulla carta i designer 3D costruiscono e spostano cose all'interno di un ambiente virtuale per creare atmosfera e suscitare emozioni. Rendono le location più interessanti ed esteticamente più belle. Arredano tutto con alberi, quadri e materiali adatti al posto in cui ci si aspetta accadano determinati tipi di evento. Incontri in locanda, quest in mezzo ai boschi o su impervi e vette montane, avventure di gruppo nel sottosuolo o in antiche magioni abitate da mostri enormi e leggendari NPC e boss. I level designer creano architetture spaziali, i designer 3D le arredano. Tuttavia questo progetto richiedeva che ognuno di loro fosse un esperto in molti ambiti diversi. Lore, gameplay, art direction e frame rate erano solo alcuni di questi. Il loro compito era di comprimere molte conoscenze diverse in un solo prodotto che tenesse conto in una qual certa misura di tutto. Il problema fu che all'epoca nessuno aveva realmente chiara la direzione del progetto e nessuno dall'alto detto mai alcuna regola aurea da seguire in merito al da farsi e al come farlo. All'epoca il motto da maggioranza silenziosa in casa Blizzard era il celebre se non funziona, aggiustalo. Ma frasi fatte a parte, due furono le cause dell'enorme successo ludico della celebre software house statunitense di Irvine, California. Per prima cosa il fatto che essa non fosse quotata in borsa e non dovesse rispondere settimanalmente a finanziatori esterni preoccupati solamente di realizzare utili nei tempi previsti. Tutte le finanze Blizzard derivavano dai guadagni dei loro giochi e gran parte dei ricavi venivano reinvestiti saggiamente in risorse umane tecnologiche. Questa cosa fu decisiva per la qualità dei loro prodotti, poiché avevano tempo e denaro a sufficienza per lavorare su ambiziosi progetti di qualità, senza mai sacrificare nulla per rispettare scadenze o capricci di privati o gruppi dirigenti completamente ignoranti degli stessi prodotti che vendono. Seconda cosa, tutta Blizzard era un vero collettivo di pari. La piramide delle risorse umane, che va dai titolari ai semplici programmatori, era in realtà una tavola rotonda dove le idee di tutti erano rispettate, dove l'input dettato dall'ultimo arrivato era colto e sviluppato quanto le idee dei fondatori della casa. Ogni team di sviluppo era solido collaborare in modo aperto e costruttivo con tutti gli altri. Tutti i dipendenti erano sul pezzo e amavano investire il loro tempo libero giocando con i videogame. Pensate che molti programmatori famosi all'epoca vennero rifiutati perché alieni al settore. Il personale Blizzard adorava i propri titolari ed essi, contrariamente alla mentalità aziendale classica, spingevano chiunque a contribuire attivamente, in prima persona, a qualsiasi progetto in fase di sviluppo senza temere critiche o rappresaglie di alcun genere. Un ingenuo, sano approccio umano proattivo fece, più di ogni altra cosa, la fortuna di Blizzard Entertainment. Per certi versi, realizzare World of Warcraft fu come metter su una garage rock band, a suon di prove insieme, presto o tardi, si pensò. La canzone buona sarebbe uscita. Tutte le vicende narrate nella saga di Warcraft si svolgono su un pianeta di nome Azeroth. Nell'epica storia che lo riguarda, riconoscerete sicuramente idee contenute nel Silmarillion, nel ciclo di Cthulhu e nei miti greci e norreni. Woe è una spugna che assorbe l'or classico di ogni tipo, trasformandolo in un materiale adatto all'esperienza videoludica. Azeroth non è altro che un piccolo mondo in un vasto universo. Un reame saturo di potenti magie ed esseri onnipotenti. Sin dalla notte dei tempi, queste forze hanno influenzato Azeroth e il cosmo che la contiene, governando il moto delle stelle e plasmando il destino di infiniti mondi e civiltà mortali. Secondo la mitologia, la grande oscurità, l'universo di gioco di Warcraft, venne creato dalla instabilità di due forze contrapposte, luce e vuoto, ordine e disordine, magia arcana e zil. Col passare delle ere, i campioni del vuoto, gli antichi dei, e quelli della luce, i titani, si diedero battaglia di pianeta in pianeta, gli uni per corrompere ogni forma di vita esistente, gli altri per salvarle, proteggerle e crearne di nuove. Il campione del pantheon dei titani era Sargeras, più tardi conosciuto come l'oscuro. Egli si prodigava viaggiando di mondo in mondo per salvarne l'anima prima che gli dei antichi e malvagi lo pervertissero completamente. Purtroppo, tutti gli sforzi di Sargeras erano vani, poiché sia gli antichi che i demoni loro servitori, una volta uccise, tornavano semplicemente nella loro dimensione e più tardi rientravano altrove nella grande oscurità, sotto nuove sembianze per proseguire la loro malvagia opera. Sargeras, stremato dall'ineluttabile fato previsto per la vita nell'universo, decise che piuttosto di vederla pervertita e mutata, sarebbe stato meglio eliminarla completamente e per questo si adoperò nelle ere a venire, in totale contrasto con i suoi pari del Pantheon. Presto egli avrebbe istituito segretamente la celebre Burning Legion, un'armata sconfinata di demoni, infernali e razze corrotte da inviare ovunque egli ritenesse giusto per estirpare ogni forma di vita prima che gli antichi dei, servitori del vuoto, la mutassero. Sarebbe iniziata così, quella che tutti conoscono come Burning Crusade. E qui entra in scena Azeroth, il pianeta protagonista della saga che ospita tutti i personaggi e le razze che milioni di giocatori di tutto il mondo impersonano e combattono da oltre 15 anni. Su di esso giunsero per primi gli antichi dei. Il primo tra loro era Yogg-Saron, seguito da Isshari, Nzoth e K'tun. Il Pantheon sbarcò su Azeroth con il loro secondo campione, Agramar, il braccio destro di Sargeras, e gli fece una scoperta straordinaria. Azeroth, pur devastata in superficie, era rimasta pura e incontaminata al suo cuore, nonostante la minaccia del vuoto. Agramar riportò la cosa ai suoi pari e questo evento eccezionale li convinse che quel pianeta fosse il punto di svolta nell'eterno conflitto tra luce e vuoto, che ci fosse speranza per l'universo intero e che una via di uscita diversa dall'estinzione totale voluta da Sargeras fosse possibile. La battaglia cosmica per Azeroth era iniziata. I titani non persero tempo e, partendo da razze native, crearono potenti custodi artificiali per opporsi ai servi del vuoto e ai loro schiavi elementali capitanati da Ragnaros, signore del fuoco. Al culmine della battaglia, Amantul strappò letteralmente Isshari dalla superficie del pianeta, ma lo sradicamento dei suoi tentacoli lasciò uno squarcio profondissimo insanabile dal quale iniziarono a fuoriuscire torrenti di margie arcana. Tale fonte divenne nota, per sempre, come pozzo dell'eternità. Poiché non era possibile uccidere in via definitiva gli antichi, vennero fabbricate enormi costruzioni atte a contenerli, costruzioni poi sepolti in profondità nel sottosuolo nel tentativo di far perdere ogni traccia dei loro abitanti. Al termine dello scontro, il pantheon lasciò Azeroth in mano ai custodi da esso creati. I titani dovevano chiudere i conti con Sargeras una volta per tutte, facendogli cambiare idea o venendo allo scontro. Due sono i tipi di magia in Warcraft, la magia arcana o magia dell'ordine, quella usata dal pantheon per traformare i pianeti e creare la vita, e il vil, in inglese fel, la magia del caos e del disordine, usata dagli antichi dèi per pervertire e mutare. Per un tempo infinito, Sargeras aveva sconfitto ed esiliato i servi del vuoto in un metapiano chiamato Mardum. Esso era un crogiolo di esseri immondi e puro villo. L'oscuro ruppe i cancelli di Mardum, liberò i prigionieri, gli rese i suoi schiavi e si fece investire dal vil sino a mutare in qualcosa di indicibile. La sua mente ancora salda, aveva un piano preciso, recidere la vita ovunque. Il pantheon giunse ad annientarlo prima che il suo folle piano avesse inizio, ma Sargeras, grazie al vil, era ormai ben oltre il potere dei titani, e dopo aver divelto Agramar con un solo fendente, bruciò i corpi di tutti i suoi pari in un inferno di fuoco magico. Le anime del pantheon, salvati in extremes dalla morte definitiva, piombarono su Azeroth dentro ai corpi dei loro custodi, luogotenenti dell'ordine. Sargeras ora sapeva di un pianeta con quel nome, dotato di un'anima immortale, tuttavia non sapeva dove cercarlo. La sua legione infernale iniziò subito a mettere tutti i mondi a ferro e fuoco alla ricerca di quello specifico. Su Azeroth nel frattempo, Yogg-Saron, prigioniero nelle profondità della terra, iniziò a mettere i custodi gli uni contro gli altri attraverso terribili sogni e malvagie visioni. L'antico inoltre contaminò il pozzo dell'eternità con la maledizione della carne e con il passare del tempo, tutte le imperiture e creature artificiali del pianeta create da titani e dai loro custodi iniziarono a mutare ricoprendosi di generazione in generazione di carne, tessuti e sangue. Fu così che nacquero gli umani nel corso dei millenni, dal volere di un antico dio rancoroso il cui scopo era quello di rendere tutte le razze più deboli in attesa del suo risveglio. Tra tutti i custodi che perirono in quella brutale guerra civile, il più famoso fu Tyr, che arrivò a sacrificare se stesso nel tentativo di salvare molti nativi dalla furia di giganti malvagi. Il suo sacrificio non fu vano e molti nativi, commossi da tale gesto, decisero di stabilirsi nel luogo della sua morte per vegliare sui suoi resti in eterno. Per i nativi quel luogo sacro prese il nome di Tirisfol, dove cadde Tyr. Nel corso delle ere che seguirono la guerra civile dei custodi, molti imperi si susseguirono, come quello dei troll, dei mogo e degli elfi della notte, la cui razza, difficile a credersi, deriva proprio dai loro nemici atavici, i troll. Sargeras giunse infine ad Azeroth sfruttando la classica decadenza dell'impero elfico di turno e dei suoi alti sacerdoti che, affamati di potere, come sempre capita, cedettero subito alle lusinghe dell'oscuro che comunicava con loro tramite il Pozzo dell'Eternità. Per fortuna, anche qui, un'ultima alleanza di draghi, tauren, nani ed elfi, capeggiati da eroi leggendari come Malfurion e Illidan, riuscì nell'impresa di resistere alla legione e minare il Pozzo dell'Eternità, ridotto ormai a mero passaggio dimensionale per il Titano Distruttore e i suoi logotenenti. Gente a modo come Archimond e Kil'jaeden per intenderci. All'ultimo secondo, la magia degli alti sacerdoti corrotti della bellissima e terribile regina elfica Azshara fu interrotta. Il portale si richiuse, il Pozzo implose e l'antica Kalimdor cessò di esistere. Il mondo come era allora si spezzò e si inabissò per sempre. I suoi resti furono ricoperti all'istante dal grande oceano e tutto ciò che rimase furono due piccoli continenti e una colonna di luce ed energia a collegare l'oceano con la volta celeste, il Maelstrom. Chiunque di voi riconoscerà questo panorama perché è da qui che tutti i giocatori del mondo di WoW hanno iniziato le loro avventure negli ultimi 15 anni, da quel che resta dell'antica Kalimdor o dai regni orientali. Io sono il motivo per cui la legione è tornata. Molti anni fa portai gli orchi su questo mondo e così facendo spianai la strada per il ritorno dei demoni. Per i miei peccati venni ucciso da coloro che amavo, ma nonostante la mia morte, la guerra si spinse ovunque lasciando molti regni completamente devastati. Oggi, dopo moltissimo tempo, sono tornato per mettere le cose a posto. Io sono Medivh, l'ultimo guardiano. Ora ascoltatemi, l'ultima speranza per Azeroth è di unirvi tutti e scendere in battaglia contro i nemici degli esseri viventi. Appena orchi, umani ed elfi metteranno da parte i loro antichi rancori per opporsi uniti alla sola ed unica cosa che le minaccia, altrettanto farà la natura di questo mondo, risvegliandosi per bandire l'ombra per sempre. Per quanto mi riguarda, sono tornato per assicurarmi che un futuro esista e per insegnare al mondo che esso non ha più bisogno di guardiani. La speranza per le future generazioni giace nelle mani dei mortali e quando il mio compito sarà finito, prenderò finalmente posto tra le leggende del passato. La tragica storia di Warcraft ci insegna come le società spesso si scontrino prima di scoprire la reciproca umanità, come anche gli eroi più integri e di buon animo possano spesso soccombere alle lusinghe del potere, come negare le proprie responsabilità per gli errori del passato possa portare a catastrofi nel presente. Nessuno dei personaggi leggendari del gioco riassume meglio la tragedia dell'intera opera quanto Medivh, l'ultimo custode, l'ultimo esponente dei guardiani di Tirisfal, il cui unico scopo in ogni epoca, dopo la guerra degli antichi, fu quello di proteggere Azeroth da un possibile ritorno di Sargeras e della sua legione infuocata. Purtroppo la madre di Medivh, Aegwynn, la maga più potente mai comparsa sul pianeta, nonché suo penultimo guardiano, fu costretta a scontrarsi contro un avatar dell'oscuro e, seppur vincitrice, ne uscì indebolita a tal punto da farsi contaminare il grembo da un frammento del nemico. Frammento che rimasi inerte per molti anni, almeno sino a quando i tempi non furono maturi. Mentre Medivh cresceva dentro di lei, l'animo di Sargeras entrava dentro il bambino attraverso il frammento. Quale miglior posizione da ricoprire che quella di sommo custode, profeta e guardiano di tutta Azeroth? Il Kirin-Thor, l'alto concilio dei maghi di Dalaran, intui che qualcosa stesse andando per il verso sbagliato, ma spodestare Aegwynn non era possibile, visto il suo ruolo, e quindi ha consentito, nonostante i presagi, di fare Medivh a ricoprire il ruolo della madre, così da averne il controllo. Alla morte del padre Nielas, egli cade in coma per circa vent'anni, e fu durante questo periodo di assenza che il titano oscuro colmò lo spirito e la mente del custode di idee, dubbi, paure, e soprattutto scelte radicali da attuare in via definitiva una volta rivestatosi. Medivh tornò alla vita convinto che fosse giunto il momento per Azeroth di affidare la propria sorte a una razza superiore, una razza che avesse delle chance di vittoria contro la legione, decisamente maggiori di quelle che egli, acceccato dallo spirito del titano, non riusciva ad attribuire agli esseri umani. Fu così che per molto tempo viaggiò per il cosmo. Attraverso la grande oscurità egli cercò, di pianeta in pianeta, la razza definitiva per realizzare il suo piano, estinguere gli uomini e la loro debolezza, soppiantandoli con qualcuno che avesse maggior diritto di loro a sopravvivere. Egli purtroppo non era consapevole di essere il perno di un piano ben più antico e ampio del suo. Sargeras già da molto tempo aveva mandato Kil'jaeden, l'ingannatore, il suo araldo più potente, Sudraenor, il pianeta natale degli orchi ormai morente, a cospirare e spianare loro la strada per la conquista di Azeroth. Da tutta l'instabilità che ne sarebbe seguita, il titano oscuro avrebbe guadagnato una nuova e migliore possibilità di tornare in forze a distruggere tutti gli esseri viventi in via definitiva. Medivh era l'unico a possedere il retaggio, il ruolo e l'autorità per aprire le porte alla più grande e duratura invasione che la storia di Azeroth ricordi. Ma per permettere a un intero popolo di orchi possenti e belligeranti cresciuti nella guerra di sbarcare in massa su un pianeta e l'altro capo dell'universo, era necessario costruire un cancello atto a stabilire un passaggio tra i due mondi. E fu così che Medivh spinse Gul'dan, lo sciamano orco capo del concilio delle ombre già corrotto in precedenza da Kil'jaeden, a gettare le basi del più famoso portale della storia di Warcraft, quello che diede il là a tutta la vicenda iniziata nel primo capitolo del 1993, con orchi umani, e proseguita sino i nostri giorni con orde alleanza, il Dark Portal. Medivh promise a Gul'dan il potere contenuto nella tomba di Sargeras su Azeroth e l'orco manipolò l'ascesa di mano nera a nuovo capoguerra, un capo tanto forte e valoroso quanto manipolabile. Capace di muovere a comando il capo di tutti gli orchi, forte dei consigli di Medivh e dei poteri derivanti dall'abuso del vil appresi dagli insegnamenti di Kil'jaeden, Gul'dan assunse il ruolo di onnipotente eminenza grigia. L'apertura del Dark Portal era ormai questione di tempo. A tutto questo seguirono tre guerre di cui si narra nei primi tre capitoli della saga tra il 1994 e il 2002. La storia di Azeroth e dei moderni real-time strategy iniziò così dall'apertura di uno scuro portale. Negli ultimi 15 anni World of Warcraft si è ricavato un posto nella cultura ludica popolare. Infiniti sono i meme, i riferimenti, gli eventi, i cosplayer e più in generale i contributi scritti, audio e video a tema che invadono il web documentando epiche imprese delle gilde sponsorizzate più importanti del mondo quanto gli imprevisti più famosi. Se non sapete ancora chi è l'eroi Jenkins ad esempio, non siete veramente sul pezzo, ma tralasciando i momenti comici potrei narrarvi di quella volta che venne pubblicato Rise of the Blood God, una patch molto attesa che dava la possibilità di prendere parte a quest'inedite e affrontare il primo ride da venti, Zungurub. Tra i boss previsti c'era Akkar, lo scorticatore di anime, la classica brava persona col 30 in filologia romanza all'università. Una delle sue peculiarità era quella di poter colpire i giocatori con un debuff che ne diminuiva i punti vita. Questo incantesimo, chiamato Corrupted Blood, infliggeva un pesante danno iniziale per poi togliere tra i due i 300 punti vita ogni due secondi fino alla morte, facendo esplodere letteralmente il personaggio in una nuvola di sangue. Il debuff aveva però anche il potere di agire esattamente come un virus e quindi di propagarsi agli altri giocatori per prossimità. L'effetto doveva durare pochi secondi ed essere limitato all'area dello scontro con il boss, ma qualcosa andò storto. A causa di un bug, l'incantesimo del Corrupted Blood diede vita a una pandemia che costò la vita a quasi tutti i personaggi del server e richiese a Blizzard di riavviare il server e ripristinare i backup dei giorni precedenti in via del tutto eccezionale. Pensate che gli epidemiologi hanno studiato in modo approfondito il comportamento degli utenti durante questa crisi virtuale per applicarne il modello a un evento reale come quello che stiamo vivendo da mesi. Studiare il coronavirus con World of Warcraft è il titolo di un articolo apparso qualche settimana fa su uno dei siti di sport e cultura più quotati in Italia, Ultimo Uomo. Anche il primo world event fu epico e problematico allo stesso tempo. Organizzare l'apertura dei misteriosi cancelli Bianchi Rai, tomba del dio Malvagio Ktun, fu un'impresa gigantesca che richiese la cooperazione di un numero enorme di giocatori di entrambe le fazioni per oltre un mese. L'hyper alle stelle era naturale pensare che una marea di gente, dopo tante fatiche, volesse esserci nell'esatto momento in cui quei cancelli si sarebbero spalancati. I giocatori vennero affrotte da ogni dove, convergendo nella stessa location alla stessa ora. Le conseguenze? La massiccia battaglia contro un'antica civiltà che si sarebbe dovuta svolgere all'apertura dei cancelli, costringendo i guerrieri di orde e alleanza a fare fronte comune per affrontare una minaccia esterna, si trasformò all'istante in una riduzione drastica delle performance di gioco a causa della latenza eccessiva del server sovraccarico, server che implose dopo meno di un'ora dall'inizio dell'evento. Ma tra tutte le cose più pazze e incredibili che accaddero in quegli anni, nel mondo di World of Warcraft, il kiting di Lord Kazak alle porte di Stormwind fu in assoluto il gesto più incredibilmente epico e sconsiderato della storia del gioco. Un gesto che più di ogni altro ruppe la gabbia dorata creata dal Team 2 e fece capire loro che gli esseri umani insieme sono in grado di fare cose ritenute impossibili. Citando Urban Dictionary, kiting in un MMO è l'atto di attirare l'attenzione di un mob spingendolo a seguirci nel tentativo di attaccarci mentre ci allontaniamo da lui in maniera costante. Oltre un certo limite di tempo o di spazio, tuttavia, il suddetto mob trova sempre la morte per mano di un NPC come le guardie cittadine pronte ad abbatterlo a vista. Lord Kazak, comandante in capo della Burning Legion e braccio destro di Kil'Jaden, era in gergo un World Ride Encounter, ovvero un mostro di altissimo livello, affrontabile solo in ride da decine di giocatori ben equipaggiati. Mob che tuttavia non risiedeva al termine di un'istanza, bensì girava libero per un'inospitale zona di gioco chiamata Blasted Lens, seguendo un ampio percorso programmato. Per affrontarlo, casualmente o meno, bastava trovarsi lungo il suo percorso e provare a farlo giù. Lord Kazak, però, aveva una peculiarità che lo rendeva micidiale. Se i giocatori non fossero riusciti a eliminarlo entro i primi tre minuti, ogni colpo messo a segno dal mostro lo curava completamente. E parliamo di un mostro da 380.000 punti vita. Ebbene, 14 anni or sono, qualcuno andò da Kazak e con arco e frecce lo chitò per oltre 40 minuti, attraverso 5 diverse regioni di gioco, sino alle porte di Stormwind, la capitale degli umani. A quell'ora della sera, a Stormwind c'era solitamente una marea di gente intenta a gestire i propri personaggi. Riuscite a immaginare lo sguardo delle centinaia di giocatori in piazza mentre vedono svettare sopra le mura della loro capitale il comandante in capo della Burning Legion che solitamente si trova in fondo al continente. Lo stupore iniziale lasciò subito il posto al desiderio di correre incontro al boss e ucciderlo prima che esso entrasse in città. Ma i famosi tre minuti erano passati da un bel pezzo e Kazak, camminando, rilasciava grappoli di shadowbolt micidiali in grado di uccidere sul colpo manciate di personaggi giocanti e guardie, curandosi completamente da ogni ferita. Molti pensarono a un world event improvvisato da Blizzard. Non potevano credere che qualcuno avesse causato questo macello di proposito. Chiamarono tutti i migliori guerrieri alleati del server e per abbatterlo giunse persino l'unico possessore della sola Thunder Fury in circolazione, una sorta di Stormbreaker per intenderci. Tutto assolutamente inutile. Wipe. Total city kill. Pare infine che solo l'intervento di uno dei boss di Blizzard, col suo personaggio onnipotente, si è riuscito a eliminare Kazak con un solo schiocco delle dita. Capite realmente quanto tutto questo fosse folle e grandioso allo stesso tempo per giocatori e programmatori. Personalmente ho dedicato moltissimo tempo e energie a World of Warcraft all'epoca. Iniziai nel Lord al Day One con uno sciamano Tauren, ma la quasi totalità della mia carriera fu un voto al paladino Oli dell'Alleanza. Einar e Tervel, i miei healer, hanno avuto molte vite, hanno servito molte cause e gilde diverse. Hanno esplorato ogni angolo di Azeroth e Draenor, difeso centinaia di volte la frontiera. Partecipato all'uccisione di milioni di mostri, creato decine di migliaia di potenti distillati alchemici, curato un numero incredibile di tank morenti sotto i colpi possenti di boss di ogni forma e dimensione. Non sono mai stato un amante del danno. Le tipiche gare di DPS tra cacciatori, maghi e warlock mi erano del tutto aliene. Ammiravo profondamente il tank per l'abnegazione al servizio, la bravura nel tenere l'agro su di sé, nel portare a spasso la bestia come un torero nell'arena e per il suo impegno nello studio di ogni encounter pre-ride. Morivo con lui quando moriva e mi sentivo esplodere il cuore di gioia quando infliggeva il colpo fatale al suo presunto invincibile nemico. Amavo sapere che tutti facevano la loro parte in modo puntuale e sinergico fidandosi di me, consci che niente sarebbe potuto andare male se io avessi vegliato su di loro. E credetemi, ho sempre preso molto seriamente il mio lavoro in gioco. Tenere vivi gli altri a ogni costo, arrivando serenamente a sacrificare la mia vita per loro pur di vedere down una montagna da milioni di punti vita. Negli anni ho visto ogni tipo di giocatore partecipare all'impresa. Ho visto persone mollare per sempre dopo una crisi di nervi al ventesimo Black Temple fallito. Ho visto le gilde più democratiche e progressiste trasformarsi in puristi della razza. Ho visto persone giocare 6, 8, 12 e persino 15 ore filati al giorno e per un breve periodo, lo ammetto, fui tra quelle. Ma la cosa che mi manca e per cui vorrei tornare a quei tempi qualche volta è la sensazione di immensa felicità e realizzazione condivisa al compirsi di un'impresa titanica mai riuscita prima. Quando 5, 10, 25 o come in origine 50 persone diverse collaborano per fare l'impossibile, agendo ognuno come l'ingranaggio di un elaborato orologio il cui scopo è segnare l'ora esatta quando lo si guarda, tutto può davvero accadere. E quando accade, solo chi è là in quel momento, chi lo è stato almeno una volta, può capire veramente lo zeitgeist di World of Warcraft. Senza giri di parole è un fatto che l'amicizia tra noi del podcast si sia consolidata in quegli anni attorno ai riding LAN, alle quest in gruppo, alle cene di Gilda e soprattutto alla conquista dell'istanza che più di ogni altra porto ancora oggi nel cuore, quella dove tutto ebbe inizio. Carazan, la torre del custode Mediv da cui è iniziata la nostra storia. La vita su Azeroth procedeva parallela a quella reale con i suoi periodi migliori e peggiori, nuove relazioni sentimentali e tragiche storie interrotte, cambi di lavoro repentini e viaggi inaspettati. Ovunque la vita ci portasse in quegli anni, l'unico porto sicuro dove rivederci tutti a notte fonda era alle porte di un dungeon 3D zeppo di mostri incazzati. Piaccia o meno, quello era il modo in cui noi e decine di milioni di giocatori all'epoca investivamo buona parte del nostro tempo libero. E anche World of Warcraft, come tutte le cose a cui ci si dedica anima e corpo con grande passione, seppe ricompensarci lautamente in quell'età della vita in cui ti sembra di avere tempo e possibilità infinite. World of Warcraft realmente non è mai stato un gioco basato su tecnologie innovative e caratteristiche uniche. World of Warcraft piuttosto è un gioco basato su un'architettura così elegante e intelligente da flettersi in ogni modo ai bisogni dei giocatori per dare loro molteplici esperienze di gioco. World of Warcraft non è un semplice gioco di esplorazione e combattimento, non è una caccia al tesoro per ingredienti e ricette, non è una maratona per loot di ogni genere, non è soltanto un gioco da fare in solitaria o con qualche amico. World of Warcraft è una gestalt di tutto questo messo insieme, un hobby totalizzante capace di essere vissuto in un numero esagerato di modi diversi. Nel vecchio motto, gli MMO sono tutto per tutti, già c'è il segreto del suo successo e della sua longevità. Mantenere il proprio pubblico nel tempo è facile quando si è in grado di offrirgli un'esperienza sempre nuova. È dura pensare che un giorno tutti i personaggi rimasti di tutti i server di World of Warcraft, tutte le istanze, tutte le avventure, le quest, le battaglie, le conquiste, le storie e i ricordi di milioni di giocatori confluiranno in uno soltanto, l'ultimo server rimasto. Il gioco entrerà in manutenzione, tenuto in vita artificialmente, nell'attesa di collassare su se stesso come una stella morente, viva ma dimenticata e ormai troppo flebile per essere vista a occhio nudo nel cielo. Teniamoci stretti i ricordi di quegli anni in cui World of Warcraft bruciava per noi come un sole nascente girando vorticosamente tra le mani del Team 2. Non dimentichiamo mai che su Azeroth siamo tutti di passaggio e che lì niente è mai scritto nella pietra. Vorrei dedicare questo speciale a Kaler, Nierbak, Jax, Einar, Enditz, Gilez, Shaggy, Link, Snappy, Nektoras, a tutti coloro che hanno dedicato almeno un capitolo della loro vita a questo straordinario hobby totalizzante che si chiama World of Warcraft. In modo particolare a Gorgo, il Warlock, il giocatore più bravo che abbia mai conosciuto, quando ancora potevamo definirci amici. Grazie a tutti.